L'allarme diramato dal Dipartimento regionale della protezione civile era un codice rosso. Codice che è diventato poi nero, con 12 morti, 10 nel Palermitano e 2 nell'Agrigentino. Alberi caduti, tetti scoperchiati, auto trascinate dall'acqua, famiglie sfollate. Il maltempo ha messo in ginocchio la Sicilia, soprattutto la parte occidentale. Il nubifraggio ha colpito con durezza, danni per milioni e milioni di euro. Ininterrottamente hanno lavorato sul campo, contro il pericolo, squadre di vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine e volontari. Come detto però, 12 vite sono state stroncate dall'azione irrefrenabile della natura. La furia del fango e dell'acqua hanno fatto 9 vittime a Casteldaccia ed una a Vicari. A Cammarata, marito e moglie residenti in Germania, sono stati travolti da una frana e la montagna di detriti li ha scaraventati in un burrone profondo circa 30 metri. Pare stessero rientrando a casa di parenti quando si è consumata la tragedia. I loro corpi sarebbero stati ritrovati decine, anche centinaia di metri lontani dalla macchina. A Cammarata sarà lutto cittadino. I carabinieri sabato scorso hanno dislocato oltre 200 uomini su tutto il territorio agrigentino, principalmente nelle zone a ridosso dell'alveo dei fiumi, ma anche nei centri abitati e nelle campagne in difficoltà. Oltre 500 gli interventi in tutta la provincia. A Ribera l'azione dei militari ha consentito il ritrovamento di un disperso, un pastore 25enne, ritenuto in stato di ipotermia e portato in ospedale. Ad Agrigento sono state oltre una ventina le famiglie che sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni per il rischio e sondazione del fiume Acragas, che sabato scorso si era pericolosamente ingrossato. Il sindaco ha chiesto ai cittadini del capoluogo di fare sapere con delle perizie quali sono i danni subiti dal maltempo e la quantificazione degli stessi. Perizie che vanno consegnate all'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Firetto ha annunciato che una volta censita l'entità del danno complessivo, tutto verrà trasmesso alla Regione e al Ministero dell'Interno per richiedere interventi. Devastata dal maltempo è anche Palma di Montechiaro. La somma dei danni è stata stimata in circa 20 milioni di euro. La giunta del sindaco Stefano Castellino ha dichiarato lo stato di calamità naturale e quello di emergenza per eccezionale evento meteorico. A Favara la frequente attività elettrica ha causato danni agli impianti elettrici e agli elettrodomestici di più di qualche casa. Danneggiato, probabilmente sempre a causa di un fulmine, anche l'impianto del cimitero Fontana degli Angeli e disagi anche per le famiglie del circondario. Incalcolabili poi i danni alla viabilità urbana e provinciale, detriti, fango e acqua hanno determinato la chiusura di molte strade con la contestuale soppressione di diverse tratte ferroviarie. Due treni rimasti bloccati dai detriti, si è reso necessario l'intervento dei carabinieri per portare al sicuro personale passeggeri. Intanto oggi, su ordinanza dei sindaci, scuole chiuse a Cianciana, Ribera, Sciacca, Palma di Montechiaro, Menfi e Cammarata. Nella maggior parte dei casi, la chiusura è stata disposta per verificare le condizioni degli edifici scolastici.